Dal 12 luglio al 31 agosto è attivo nel territorio della TS della Montagna il servizio di guardia medica turistica. 11 le località interessate in provincia di Sondrio, 2 nell'Alto Lago Comasco. Nonostante la cronica carenza di medici su tutto il territorio nazionale, ancora più nelle zone decentrate, garantite oltre 5.000 ore di assistenza. Lo sforzo di questi mesi, soprattutto dei nostri uffici, è notevole, proprio la ricerca spasmodica di medici, però siamo riusciti, nonostante questo, a coprire praticamente quasi tutte le nostre postazioni. Sono 25 su tutto il territorio della TS della Montagna e quindi ci servono dai 30 ai 40 medici per garantire il servizio tutti i giorni, perché è un servizio attivo 7 giorni su 7. Il servizio assicura l'assistenza medica a tutte le persone non residenti, turisti, villeggianti, visitatori occasionali. Gli orari e le sedi sono consultabili con tutta evidenza sul sito della TS della Montagna, che quest'anno ha realizzato anche una brochure in inglese a beneficio dei turisti stranieri. I cittadini possono rivolgersi presso gli ambulatori della guardia medica e possono anche richiedere delle visite domiciliari. Ci sono dei numeri telefonici da chiamare e quindi questo è il servizio di guardia medica turistica, che si integra comunque con il servizio di continuità assistenziale, ovvero le ex guardia medica, perché in molti ambiti è presente anche la guardia medica, che è ovviamente rivolta a tutti i cittadini e che funziona anche di notte, anche in quelle fasce orari, quindi quando non è presente il medico dei turisti. La guardia medica non è il numero unico delle emergenze? Assolutamente no, quando c'è i casi di urgenza vera bisogna chiamare il 112, che è il numero unico, che fa intervenire in base alla descrizione, agli elementi riferiti, decide il tipo di intervento, il tipo di mezzo da attivare. La guardia medica turistica e la continuità assistenziale di fatto sostituisce il medico di medicina generale, quindi tutte quelle prestazioni che abitualmente non rivestono carattere di urgenza e che richiedono però una consultazione medica. Nei giorni e nei luoghi in cui non dovesse essere attiva la guardia medica turistica, ci si può rivolgere anche ai medici di base e pediatri di famiglia, previo pagamento della visita definita occasionale, secondo un tarifario nazionale, che però può essere rimborsata poi rivolgendosi alla propria ATS o ASL di residenza.